Diciamo che il premio Città d'Imperia sta crescendo come sta crescendo la città. Bisogna migliorare, modificare. Il premio Città d'Imperia deve essere sempre di più il premio della comunità imperiese. E ormai lo stiamo organizzando affinché ogni anno ci siano tre premiati, uno imperiese della storia imperiese e altri due personaggi che hanno a che fare comunque con la nostra comunità. Abbiamo iniziato con personaggi di assoluto valore, Profumo è una delle persone più importanti nello scenario economico nazionale, così come la Bracco nel campo delle grandi industrie, dell'innovazione e della ricerca. Tutte e due hanno aiutato la nostra città. La Bracco donando il proprio yacht, questo San Germani d'epoca di grande livello e che oggi ci ha annunciato che ci aiuterà finanziando questo corso per tutti i giovani imperiesi a farli diventare dei grandi marinai sui velieri, a fare rotta nei nostri mari. E così il professor Profumo, che già ha iniziato con il primo finanziamento per il primo lotto dei lavori a Villa Groc, dove abbiamo aperto i giochi d'acqua, abbiamo fatto stamattina la prova con grande soddisfazione e che così si impegna nei prossimi tre anni, il prossimo già dalle settimane prossime a ulteriori finanziamenti per arrivare ad un restauro totale, complessivo, della villa, dei suoi giardini, dei suoi giochi e delle sue luci, che è una perla della nostra città. Quindi colleghiamo il premio per far conoscere imperia fuori e per avere un aiuto a far crescere la nostra città. Grazie.